L'idea del viaggio è stata un po' quella di prendere le nostre bici, il nostro zaino, il nostro caschetto e arrivare al mare. La mountain bike non è strada larga di ghiaio d'asfalto, la mountain bike è single track. In bici hai altre sensazioni, profumi, tanti terreni, posti diversi, mangi cibi diversi, l'Italia è un posto fantastico, secondo me, e ha questo vantaggio di avere tanti posti così diversi, così vicini. Guarda proprio, non è che guarda gli occhi. Guarda che io guarda con la persona o guarda gli occhi? Sì, va bene, non è che hai il mio occhio. Tu passi da un borghetto medievale nel Piacentino, fatto in un certo modo, per poi andare su in alto, sull'alta via, vedere questi sentieri stretti, antichi, anche strade romane. Ottone per me, personalmente, è un parco giochi. Con tutti questi pezzi scassati, con le rocce, è facile che i raggi si mollino un po'. È al solito il tuo amico che si dimentica il tiralaggi, tocca inventarsi i ferri. Lui ho detto a Leo, porta il tiralaggi. Sai un pirla, te e tuo fratello. aspetenta Anfasia Donate Quando sei in un single track in cui passi tu e la bicicletta, magari se sei in un gruppo sei tutti in chile indiana. È stato bello il fatto che avevamo bici diversi, io ero su una bici che è un po' cross country, all mountain, quindi una bici più da pedalare. E allora ero su bici più da enduro, quindi dove pedali un po' più a fatica ma in discesa vai un po' più forte. Grazie a tutti. Da l'azio così. Vai Dio vieni qua. E oggi mi sono proprio scatenato, quella catena malefica lì. Ma la fine per adesso quello che a momenti rimane più del club. Sì, a parte che se non c'avevo la pinza io tu eri minimo la ruota. Devo fare il fenomeno. Quando stavo per iniziare la discesa c'avevi proprio addosso quel senso di adrenalina che non vedevi l'ora di buttarti giù. Non sono come quel sapione di mio fratello, ecco. Sì, tant'è vero che ieri ti sei cappottato, ho fatto un volo. Ma lascia stare nessuna cosa, anche Marco è forte, ma anche te ti sei ribaltato tre volte. Non è che... Non è che... Ma lascia stare nessuna cosa, anche te sei ribaltato tre volte. Ma lascia stare nessuna cosa, anche te sei ribaltato tre volte.